Com'è stato il gol, soprattutto in una partita delicata come questa? È stato un bel gol, ho trovato spazio appena mi sono girato e ho puntato senza pensarci. Era molto delicata, sentivate la pressione prima di questa partita? Io non sentivo molta pressione, eravamo tutti molto carichi e volevamo a tutti i costi portare a casa il risultato. C'è una dedica per questo gol? La dedica è per mio padre che è venuto fin qua a trovarmi e mi ha portato molto bene. Hai fatto molto bene anche le volte scorse, tanto che subito Stellone ti ha dato fiducia, ti ha fatto giocare, che consigli ti dà? Ringrazio il mister perché mi è stato dando tantissima fiducia e mi dice di giocare senza pensieri e dare il massimo, l'importante è quello. Immaginavate anche i tifosi della tua vecchia società? Sì, sono tutti molto contenti, stanno sempre vicino, mi iscrivono, molto bello questo.